E mo che cazzo è questo? Signori e signori, benvenuti nel mio primo God Spotlight Allora, lo Spotlight, per chi non lo sa, è dove vengono spiegati prima le idee che devono uscire Però, diciamo, non potendo farlo subito, lo faccio appena usciti E' uscito oggi, che è 2 giugno, in teoria Allora, Ratatosk, se si pronuncia così Nella mitologia norrena è, diciamo, lo scogliattolo di Yggdrasil, l'albero del mondo Dove, diciamo che è nel mezzo dell'albero Perché su in cima all'albero del mondo vi è presente la saggia aguila E nelle sue radici, invece, vi è presente il serpente Niteg Male, insomma Non ho ben letto la sua lore Ma quanto ne so, è, tipo Non lo so, è un cazzo di scogliattolo, per l'amor del cielo Cosa pensavano i programmatori? Ma andiamo con ordine Allora Le sue abilità Ah, innanzitutto sappiate che questo è un Assassin, quindi verrà giocato in giungla Ah, e non lo comprerò mai Mai Capite? Mai? Mai Ne va della mia pazienza Allora Allora, la sua passiva La Corn of Yggdrasil Cioè la ghianda di Yggdrasil Fa sì che Neraqdatosk Spawni con una Sto leggendo adesso, quindi non l'ho visto ancora niente Spawni con una potente Ghianda dell'albero del mondo Nello suo inventario La può Vabbè, sì La può Upgradare Nello store Veda Anywhere from the map to strengthen the franchise Ah sì, probabilmente questa ghianda che è Dice Viene potenziata, cambia le sue abilità Praticamente Come La potete vedere che è qui Guardate Ha 4 Diffici 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 Differenti potenziamenti Ed è il primo strumento Che è Unicamente per un solo dio Quindi Non male Però bisogna vedere Il potenzialmente che ha La sua prima abilità Dart Che dovrebbe essere Dart o qualcosa del genere Realmente è un dash Scatta in avanti Danneggia tutti i nemici nella sua via E se colpisce un nemico Che non è stato colpito da Dart Negli ultimi 10 secondi Il cooldown È resettato Quindi può utilizzare un'altra volta Flurry o Offcorn Dovrebbe essere Circolo Cioè Raffica di Ghiande Gira in circolo Sparando 12 Ghiande In cerchio E Che si fermano in aria Che poi tornano indietro Da Radatosk Dove Dove ovunque sia Facendo Damme a qualsiasi Ci sia Tra le loro tradittorie Sia in andata Che in uscita Arcon Blast Arcon Blast Shoot Blast Of course Vabbè Spara in cono Quattro ghiande Che fanno danno In tradittoria E Truth Cosmos Che dovrebbe essere Per il cosmo Leap Praticamente Si carica E Salta su un ramo Sopra la sua testa Che deve saltare Può saltare Da ramo in ramo Due volte E nel terzo Sceglie una locazione Bersaglio Cioè Un'area Bersaglio Dove colpisce Atterrando Facendo danni Cancellando questo Cancellando Punto Bersaglio Dove Aveva Poggiato L'icona Dove aveva Poggiato Allora Innanzitutto Andiamo Controlliamo Queste abilità Ma non lo posso Guardare Ma che cos'è Questa cosa Ma che è Stuart Little Questo è il dardo Che non è Niente male E' più un mage Che un coso Però Seconda abilità Non male Terza abilità Wow Vabbè l'ulti Vediamo se riesco Ad arrivare Alla lane Wow Che carino Come no Allora Nei vedete Sono questi Io voglio vedere Più che altro Questa storia Della Ghianda Allora Abbiamo Due possibilità La yellow La ghianda gialla La ghianda blu Allora La seconda abilità Adesso Rallenta Nemici colpiti Mentre Quella gialla Adesso La seconda abilità Fa 20% Più di danni E tra le danno 30 De physical power Quindi eh Ghianda di zaffiro Ogni ghianda Nella terza abilità Si attacca A un dio E esplode Dopo due secondi Facendo danni Nell'aria Chispio Quella di smeraldo La terza abilità Cura Ratatosk Per ogni hit Ok Invece Nella parte gialla Ghianna di topazio Dard Adesso Stunna Versalt Che sono stati colpiti Due volte Vabbè Due volte Si sono stati colpiti Due volte Da dart Dalla prima abilità Il bersaglio è stunnato Per 10 secondi Madonna Ah no no Scusa Mi è stunnato Si è colpito Due volte Entro 10 secondi E Ghianda di opale Shit sits Non ho capito Dart Shell sits Lighting wall Near blue Dalley Dash Ah Praticamente Che quando Usa la prima abilità Lancia Dei Dei fulmini Ai bersagli Mentre Corre Priorizzando 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 Puntando solo Gli dei Ok Lighting walls Apply un hit Effect What Non c'ha senso Vabbè Adesso la vediamo E poi non posso più Tornare indietro Vero Non posso più Tornare indietro La posso vendere Ah la posso vendere Ah la posso Pensavo fosse Lo strumento Vediamo Allora Aveva detto che La Zafire Dice Sticker The God Vediamo Andiamo con la ulti Mi piace On the way Non male Non male davvero Questa Dovrebbe rallentare Però vabbè Come vedete Si attaccano a Questa sarà Utilissima Per gank Oppure per Pulire i campi Velocemente Allora Vendiamola E prendiamo Quella di smeraldo Che cura Quindi No Non me la fa Cambiare Perché No Ragazzi Non lo sapevo Credevo La facesse Cambiare Invece no Quindi si E' come se fosse Uno strumento attivo Ragazzi Praticamente E' Quindi Nishba Non posso mostrare Gli altri No Che peccato Vabbè Probabilmente avete capito Che Quella di Topazio Colpisce Avendo colpito Due volte Lo stesso obversario Con la prima abilità Lo stunna Mentre questa Non ho ancora capito No Shoot Sits Lighting Bolt Credo che faccia Danno Su tutti i nemici Che Passano vicino Insomma Vabbè Questo Potrebbe dirsi Molto 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 Utile E Facendo Tornando indietro Magicamente Nel tempo Possiamo vedere Gli altri Allora Abbiamo visto Che Topaz Abbiamo visto Sapphire Quella di Zaffir L'abbiamo visto Cosa fa Quella di Smeraldo Non ve la faccio vedere Perché probabilmente Cora su It Semplice Questa E anche Anch'essa Abbastanza semplice Questa Vorrevo vedere What That's a lot Enough Guardate che cambia Il pelo Tra l'altro Mero dimenticato C'è l'effetto grafico E quando cambia La ghianda Cambia anche L'aspetto Un po' Un po' L'aspetto di Tizio Kai Io semplone La Ratatrosk Un ragazzo Di Ratatroskers Sembra che dice Il pronuncio Wow È aumentato Il range Del dardo Sbaglio Vediamo Che succede Che ca... Non ho capito Ma solo Sugli dei No Se io passo qua L'ho colpito Ah Praticamente È come se Facesse un Come si dice Un Muori Facesse un Un range In più Insomma Un range In più Allora Questo è il radato Oscar O come si pronunci Lo scogliattolo del Kaiser Suar Little Quello che è Abbiamo visto quindi Una heal Una cura Una stunna Un altro fa più danni E un altro permette di Aumentare il range Di un attacco Di un'abilità E quindi A quanto pare Poi Tra l'altro Il primo stadio De tutte e due Sia quella blu Che quella gialla Il primo stadio Dell'evoluzione Della chianda Permette Ha funzionità Come si dice Si incentra Sulla seconda Abilità Mentre La 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 versione blu Quindi La zaffiro E la smeralda La smeralda Quella di smeraldo Viene Influisce Sulla terza abilità Mentre Le altre due Influiscono Sui dart Su dart Sulla prima Quindi credo sia Un potenziamento Fatto sì In maniera che In base a Come sta andando La gioco Tu decida Però Essendo uno strumento Che puoi soltanto Comprare una volta E poi non puoi più vendere È un po' Diciamo Difficile Tra l'altro Non ho visto neanche Le statistiche Allora Questo vabbè Physical power Qua la zaffiro Da Physical power 50 E physical penetration Idem Per Le emerald Mentre Qua la fa 50 Di physical power Sempre E Più 25% Di cooldown Reduction Che non è male Però Però dipende Tutto da come Stai giocando Alla fine Dipende da come Giochi Le cose Se giochi aggressivo Credo che dart Quella per potenziare La zaffiro La zaffiro La Se giochi In burst Nel senso che Vuoi far danni subito Appena Appena che ingaggi Vuoi Tirare tante Tegole ammazzate Da fa danno subito Fa più danni possibili Credo che La topaz E l'opal Siano la migliore Perché entri In gaggi Che ne so Con Essendo un jungler Sicuramente Utilizzerai Fist of the god Che è uno stun Per i dei Quindi entri In gaggi Subito con Dart La prima volta Lo stunni Se poi Attimenti Vuoi utilizzare Un altro strumento Invece di Fist of the god Utilizzate Che ne so Invece di Della versione Con lo stun Prendete la versione Che shot I mostri Sotto il 15% No Sotto Il 25% Utilizzate la La topaz Così utilizzate il dart Per lo stun Invece del Cosa del jungle Altrimenti usate Opal Opal però Credo sia meglio Contro Tipo Durante team fight Tutto l'assemblamento Di nemici Tu vai là Ti scatti Tutto Gli dai due botte E praticamente Gli hai fatto un botto Di danni Se sei abbastanza fidato L'emerald Specialmente Credo sia utile Quando c'hai Problemi in giungla Ad esempio Se stai sotto In giungla Ti permette di Farmare più velocemente Dentro la giungla Così Hai La possibilità Di curarti Senza tornare Nella base E zaffire Invece Credo sia Ideale Per gank Quelli lontani Oppure per colpire Più bersagli insieme Simile alla topaz Simile alla lopal Però Diciamo che Invece di Andare diretto Attacchi da Lontano Infatti Si Si possono Non c'è stato Pensare Si possono Divere in due Quelli indiretti E quelli diretti Di danni Quindi così Bene Questo era lo spot Di Ratatosk The Sly Messenger Che dovrebbe essere Il messaggero Bugiardo Quasi del genere No Mal No malvagio Non mi ricordo Ragazzi Sly era qualcosa Di Lo scriverò Lo metterò In sottotitolo Sicuramente E niente Vi ringrazio Vi ringrazio Di aver visto il video Vi ricordo Di cliccare Se vi carico Al video Di commentarlo Sotto Di iscrivervi al mio canale Che cosa ne pensate Di questo dio Se vale la pena usarlo Di non vale la pena Io di certo Non lo compro Perché un cazzo Di scogliato Non lo compro No Grazie Sto muto Mi compro ferri Cioè un lupo Se lo mani Lo scogliato E niente Ci vediamo nei prossimi video Canplay E un nuovo Prossimo spotlight Che ci sarà A voi A te Neanche un mese E ci vediamo Bye 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 bye